se non fate concludere le gare questa a tre giri va bene quanti quanti siamo vediamo se entra qualcuno degli amici miei schizzo entra nella gara schizzo schizzo maiana schizzo si chiama prima prima persona sia ogni tanto mi commenta anche a me che mi ha detto che il mio amico è quanto tener come si chiama quella fai a te nel still c'è l'amico mio terza persona suggeriscono se vediamo cosa succede mamma mia lasciala prima prima questa è una sfida così cosa consigliano dunque costruita con la t20 poi dicono etr 1 3 7 bt 20 osiris best etr 1 si etr 1 dicono anche c'è scritto io me la gioco su dov'è quello la eccolo qua da un bel 9.700 così a bonus vediamo cosa riesce a fare io la l7b 10.000 chi è che mette 10.000 bell'i viaggio con la prima per un minco ragazzi se non vinciamo poi io e francesco abbandoniamo i fatti chiudere live legamo gli account guarda 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 è e siamo in prima posì in prima persona iniziamo a essere ps4 pro questa è la visuale ps4 direttamente da dagli studi della sony mamma mia mamma mia dove andiamo diciamo come alfix che è un toni rosa nero qua davanti ragazzi non stava posizione per me mamma mia oddio mamma mia ragazzi 3 liberi pure in prima posizione per toni settima c'è sto c'è sto odio nelza millesima l'ho presa vai solto Non ho capito Non ci sono arrivato Dove rifare tutto E proviamo Proviamo a fare la spirale Questa è ok Però dopo Devi fare il salto nel tubo Dai che è dentro È entrata Sì è entrata Andiamo La praticamente entra all'incontrario Ma vabbè Che ci prega L'importante è che è arrivata Sì infatti Bellissima comunque in prima persona Troppo forte Ma non si capisce niente però Scusami Ma che figata Ragazzi non si capisce un cavolo Ragazzi solo per voi Facciamo anche queste gare Mamma mia Questi tipi Eccolo che supera Eh volevi Volevo Ok siamo di nuovo nel tubo Tubo rosso adesso Tubo grigio Salto Warride rossa Oddio ce la faremo C'è una spirale C'è una spirale forse Una spirale Stranissima Ragazzi È un casino È un bordello Non riesco a vedere nulla Non so cosa stiamo facendo Non so dove stiamo atterrando Soprattutto L'abbiamo preso Ok Però dove devo andare Ma che devo andare Non vedo dove devo andare Ah di qua forse È perso di casa No non capivo dove bisognava andare Perché era Ah però sono sesto Dai buono Iniziamo il secondo giro Secondo giro Dai Ok Riproviamo Adesso la mia macchina fa Strani Non lo so No non ce la faccio Francesca Perché hai messo in prima persona Non lo so Non si capisce niente Dai No è ora pure l'altra Non si capisce niente Dai Dai E non si beve E non si beve E non mi ha mai mai vincita Bella Ciò chiaro Bella Bella Non fa Ma Spirale Spirale Salutiamo Un buonissimo amico Sale Seconda spirale Non si capisce niente Non si capisce niente Salto Dai girati al contrario No devo rifarla Devo rifarla Ragazzi Mi piace tantissimo Mi piace perché non Non capisco un cavolo Ma se tu ci capisci qualche cosa Non la prende ancora Incredibile Però ce la sto facendo Non si capisce Dai Non si capisce Se si deve fare E andiamo Quinta posizione Vai boys Vai che per senso Il sesto Dai Tubo Ovviamente Che capisce Ma per te E' facile Dirsi Francesca Dai Mamma mia Per te è facile Perché è facile Non è la prima volta Che provo a fare Una gara così Tu sicuramente L'avrei fatto Un milione di volte No no Dai No Non le ho mai Vedi che Francesco Vedi che Vedi che Vedi che Vedi per la prima persona Prati 20 poi C'è per farti capire Che ancora Francesco Un po' non mi è capito Vedi che Non si capisce Non vuole Dai E' forse Quella tua Ragazzi Hashtag Nei commenti Non mi è Hashtag Non si capisce I miei Iscritti Non ne stanno Capendo niente Scusa E' preso Hai preso Vai 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 Mamma mia Niente Niente Francesco è arrivato Adesso Io altre volte Voglio fare Un bull ride No niente Praticamente Vai 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 Ragazzi Dalla seconda posizione A nono Vai Vai Andiamo Fingiamo anche il clacson Alla Alfix Mamma mia E ce la fa Adesso andiamo di qua No che sono in quinta Vai E andiamo a comandare E ce la fa Francesco Dislike Che c'è perché conclude Non si capisce niente Dai che sei Ah sei qua Aspetta Vediamo Poi c'è il war ride Vai 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 Tutto dritto Vai No Non così Non così Vai Dai che è buona Poi c'è il pezzo azzurro C'era il pezzo azzurro Che devi andare su Riproviamo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Si butta Signori Mamma mia Trixixi No scoop Doppio capriola Mamma mia Esplode No mamma mia Ancora va a vincere Ragazzi A vedere il traguardo It's black Attenzione Colpo di senamata Eccolo Proprio lui Vai Attenzione Guardiamo come arriva Mamma mia Mamma mia Quasi è davvero i piloti Mamma mia Retromarcia I nostri canali Sono salvi Andiamo a chi è che è arrivato primo Chi è che è arrivato primo Sempre quello Sempre quello Lei mi ha dato i big money Vediamo Visto che ho scommesso Vince anche in prima persona Gravo Applausi The World Riders PS Ma pure le stature scommesse Quanto mi ha dato 10.870 Ragazzi come perdere la vita Su GTA 5 Online Tu giorno sulle gare Questo zarpot Mamma mia Mamma mia Poi se facciamo un deck match Io questo Gli cazzo il buco Del Del Possiamo notare Nella classifica Black 28 Francesco 26 Tony 27 Chi vincerà Fra loro Tra Mamma mia Punto senza collisioni Mai più prima persona Ok Mamma mia Niente Prima persona Prima persona Prima persona Prima persona